Io in carcere, per resistere al tipo di vita frenetica che avevo, avevo una giornata occupata 24 ore su 24, non c'era mai un buco. Poi i momenti dei pensieri li facevi la mattina, tutte le mattine che correvi, nei 30 minuti, quando ti allenavi e soprattutto li facevi durante le notti, quando guardavi la televisione, ti venivano le idee. Ma è sempre una questione di idee, quella roba delle idee, delle idee creative, ti devono venire. Non potrai mai imparare a dire ok faccio l'imprenditore, ce la devi avere nel DNA, sono dei doni che tu hai, ce li hai o non ce li hai. Io ho la mente sempre prefissata al guadagno quotidiano, alla notizia quotidiana e al prossimo step lavorativo che devo fare. La mia testa è occupata così. Quando io divento personaggio televisivo nel 2005 perché scoppia l'inchiesta Vallettopoli, prima io ero famoso, ho fatto televisione, poi ero famoso perché ero il marito di Nina Morici. Quando scoppia l'inchiesta Vallettopoli, siccome ho questo intuito, capisco che il protagonista sarei diventato io, allora dicevo di fare il brand, decido di trasformare in personaggio. Vado da Costanzo nel 2005, faccio un uno contro tutti dove c'era tutto il mondo della televisione. Mi ricordo che c'era Fiorello, c'era Ornella Muti, e Ornella Muti li tenavano la mano, erano uno che aveva fatto 30 anni in televisione. Io ero lì, era la prima volta che andavo in televisione ed ero il protagonista di quella puntata dove nel pubblico c'era tutta Mediaset. Per me era essere a casa senza provare un minimo di emozione o di paura, con una scioltezza, è quella roba lì, tu ce l'hai o non ce l'hai, non la puoi imparare. La naturalezza della risposta, battuta pronta, saper cogliere i momenti televisivi, sono cose che tu ci nasci, sono dei doni. Poi al dono ci deve aggiungere la cosa più importante, che non tutti sono fortunati, l'intelligenza. Se sei fortunato di avere l'intelligenza e la coltivi, puoi svoltare, questi sono i segreti.